l'incontro di oggi era incentrato sulla funzione educativa del teatro sul fatto che il teatro è il luogo della formazione degli esseri umani dal tempo immemorabile noi l'abbiamo un po come dire trascurato messo nell'angolo dell'estetica io penso che invece sia nel nel centro della formazione dell'umano e del senso della vita e della morte che nel teatro ci vede attori emblematici